Anticipazioni il segreto. Lunedì 8 febbraio 2021. La Marchesa svela ai suoi figli la verità sul suo ospite francese Jean-Pierre. Dice di averlo conosciuto più di 20 anni addietro. Quando è arrivata a Puente Viejo ha scelto di proteggere i suoi figli e il suo cognome. Così lui se n'è andato. Ricorda che Simon Castro, il loro padre, era un uomo molto violento. Più tardi Jean-Pierre ringrazia Isabel per aver omesso ad Adolfo le sue vere origini. Quel ragazzo vive alla casona con Ignacio suo nemico. Meglio tenerlo all'oscuro di tutto. Adolfo finisce per confidare al fratello cosa lo angoscia. Il bambino che Marta aspetta non è di Ramon. E scappata a Bilbao quando ha scoperto di essere in dolce attesa, ed ha sposato subito quell'uomo. Era tutto studiato. Thomas, e il capitano Huertas, riflettono sulla scomparsa di Macheda. Forse, ha a che fare con la recente aggressione subita? Successivamente, il capitano fa visita ad Alicia, e le raccomanda massima allerta. Matthias, si congratula con lei. I due, poi, ricordano i momenti, che hanno caratterizzato la loro conoscenza. Sono stati amanti, compagni, e perfino nemici. Jesus Urrutia, intanto, viene scarcerato, e si unisce, commosso, alla moglie, ed alla figlia. Grazie.